Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio fare un video di cosa ne penso sulla versione 1.0 di Subnautica Below Zero, che è uscita appunto da qualche giorni, versione finale, quindi non più in accesso anticipato, gioco che mi è stato regalato dal mio grandissimo amico Ryuzenka, che io ringrazio veramente di cuore, grazie Ryu, e lo sapevi tanto ad andare a fare un regalo sicuro, infatti mi hai fatto veramente contentissimo. nel gioco, che io lo sapete, insieme anche a The Long Dark, ho sempre considerato i due survival meglio riusciti della storia proprio di videogiochi, e il perché ve lo spiego a breve, dopo la sigla. Chi mi conosce sa che io ho un amore folle per Subnautica, ed è un gioco che ho trattato molto sul canale anticipatamente a serie come Ark, Rust e altri giochi, perché mi piaceva da morire. Dov'è Subnautica, ora poi vi parlo di questa nuova versione, Below Zero, dov'è vincente come gioco? Secondo me, nell'aver creato col tempo e con gli anni, una storia credibile, veramente ben fatta, e soprattutto, non a caso, per non aver mai inserito la modalità multiplayer o cooperativa. Ora, tra di noi, il cooperativo ci stava, tanto te lo giochi con un amico, non c'è possibilità di grief né niente, però è un gioco che il suo potenziale lo dà quando te lo giochi da solo, anche per il piacere della scoperta. Non vorrei che sia, magari, l'altro giocatore che è con te, che gioca una sera perché non sa cosa fare, che va a scoprire un segreto, togliendotela a te, perché poi, comunque, il piacere della scoperta è il succo di Subnautica, come anche in questo secondo capitolo, Below Zero, e è anche la forma e la sostanza del gioco in sé. Per sé, se uno ti ruba il piacere della scoperta, è finito. Non è No Man's Sky. Ti mi rubo il piacere della scoperta di un pianeta, vado su quell'altro, chi se ne frega, troverò le mie cose, per quanto poi è tutto uguale. Perché No Man's Sky che se ne dica, sì, faccio una scoperta differente dalla tua, ma poi, comunque, il materiale che trovo è lo stesso deuterio, tra virgolette, che muove la tua navetta. Quindi, magari, il mio c'è un altro nome, ma alla fine è sempre quella. Invece, il bello di Subnautica, essendo ammettato un'altra volta in un'abitazione sottomarina, non solo, questa volta c'è anche tante terre emerse su questo nuovo pianeta. La cosa bella è che più si va in profondità, più si scopre, e più viene fuori un mondo a galla. Un mondo, secondo me, veramente credibile, ecosistemi, flora, fauna e quant'altro, e i soliti pericoli in cui il gioco ti mette faccia a faccia e di cui ti potrai difendere, ma non potrai vincere. Cioè, non ci sarà mai lo scontro diretto per distruggere il Reaper Leviathan per ucciderlo, no. Perché, comunque, giustamente, chi ci ha fatto la recensione prima di me disse se ti avessi dato un mitra o qualcosa in mano per difenderti, la paura e l'angoscia sarebbe stata sicuramente minore. Ed è la verità. Come nei giochi tipo Soma, dove non ti puoi difendere e la paura fino a un certo punto, altri giochi dove magari c'è un canne mozze, sicuramente, ecco, un Soma, dà molta più ansia e paura se non un residentivo, le cose del genere. Proprio per il fatto che non ti puoi difendere. Devi trovare la maniera di nascondere e ti scappare. Ora, non è un gioco horror subnautica, non è neanche, questa volta, nella selezione Below Zero, che a differenza del gioco normale, non è un vero e proprio secondo capitolo, è più una espansione stand-alone che inserisce nuovi contenuti, un sacco. La mappa è più piccola di quella di base, però è più ricca. Nuove costruzioni, nuove cose da fare. Il Zook è sempre lo stesso, costruisci la base, fatti i potenziamenti alla tuta e al Seatrack, quello che un tempo era il Cyclops, il Mega Sottomarino, che ora non c'è più, o meglio, c'è ancora, ma è molto più ridotto, una base mobile più piccolina, vai a esplorare tutto quanto e in questa nuova edizione, senza farvi spoiler, c'è un contatto umano. Non soltanto via Olonastri o via Radio, comunque, a distanza, ma c'è realmente un contatto con altri umani che sono con te sul pianeta, quindi, fortunatamente, non siete soli come nel gioco precedente. E in questo gioco, a differenza del primo, nel primo eravate caduti con la nave, l'aurora sul pianeta, non ci dovevate finire, era stata una sciagura. Qui, perché si è avvicinata troppo al campo gravitazionale, l'atmosfera l'aveva tirata giù col peso e tutto quanto, l'aveva schiantata in due. Quando ci siete andati evolutamente su questo pianeta, e, ovviamente, ci sono stati dei guasti, dovete trovare la maniera di tornare via, perché siete uno scienziato, un planetologo, un ecologo, e comunque dovete anche andare a, insomma, nello stesso punto dove prima di voi vostra sorella ha studiato col suo team, che è scomparso nel nulla, quindi, comunque, le due trame si assomignano abbastanza. Però, qui c'è anche il contatto umano. Poi, il gioco è bellissimo, punta il suo forte sul single player, nel frattempo vedete un po' di immagini gameplay montate così sotto, punta il suo bello nel piacere della scoperta, ma non è quel piacere della scoperta infinito, che prima o poi, anche proceduralmente, scopriere sempre le solite cose. Questo è un gioco fatto, bello e pronto, e finito, soprattutto in questa versione 1.0, uscita qualche giorno fa, su Steam, ovviamente, quindi vi lascio anche il link per andare ad acquistare e tutto, dove il piacere della scoperta è, ovviamente, unico per un gioco, che ti può durare anche 50 ore, se esplori tutto, se costruisci tutto, se ti fai la base, che te la devi fare per forza, perché poi, a un certo punto, non è che vorrei tornare sempre in superficie, a respirare e rimmergerti con le bombole da 30 secondi, quindi per forza di cose, avrà un inizio, avrà una fine, e avrà un excursus in cui dovrete potenziarvi per andare avanti nella storia e tutto quanto. Per me la spettacolarità che ha reso Subnautica, per me il migliore, ve l'ho detto, insieme a The Long Dark, però oggi parlando solo di Subnautica, e questo Below Zero è ancora più bello, è il fatto proprio che ti dà l'idea di essere solo, ma soprattutto di essere uno scienziato che si deve spingere sempre più avanti per fare il suo lavoro e soprattutto per scoprire che cosa è successo. E poi, vabbè, per me, che sono un talassofobico, come anche mia moglie, abbiamo paura, sì, delle profondità oceaniche, ma non tanto delle profondità, del fatto la talassofobia è quello di sentirsi, magari, quando siete in mare, può succedere sentirsi toccare un piede, perché magari è passato un pesce, un'alga, qualcosa, e la paura di non vedere cosa vi ha toccati, o anche semplicemente di vedere apparire dal nulla, al buio, sott'acqua, queste grandi strutture, ma anche uno scoglio, o anche un pesce che vi passa davanti, che magari fino a un certo punto non lo vedevate e poi ve lo vedete passare davanti, vi immaginate una balena o comunque qualcosa del genere, quella è la talassofobia, è proprio la paura dell'ignoto, ma collegata comunque all'acqua e ai fondali marini oceanici. E in questo gioco proprio si sente, si sente forte che quando arrivi davvero col sitrack al buio che illumina fino magari a 5 metri davanti, perché è troppo buio che manca la luce del sole c'entra e ti vedi apparire davanti in sta montagna, lo senti un po' il respiro che ti manca ed è fatto veramente molto bene. Magari con quell'entrata in scena di un mostro marino che ti sprona a scappare, a buttarti dentro un cunicolo, un sistema di gallerie sottomarine, in cui trovare magari il ripario, perché sennò distruggerà sia voi che tutta quanta l'attrezzatura. Come negli altri giochi, quando morite, l'equipaggiamento che avete non lo perdete, come nel primo Subnautica, ma tutto quanto, lo zaino che avevate addosso, perderete tutto. Non c'è ovviamente la morte perenne, per quanto si può attivare, ma non la consiglio perché c'è. Ciao, dopo 40 ore morire una morte, perso tutto, disinstallo. E il gioco, il gioco è veramente uno spettacolo. La mappa è più piccola, diciamo più o meno la metà, però è molto più ricca di storia, molto, molto, molto più ricca d'ambiente e di biomi, e soprattutto questa volta ci saranno altri contatti umani senza dirvi niente e la storia è veramente uno spettacolare per me, merita da morire e spero che il prossimo Subnautica oseranno leggermente di più facendolo co-op, non multiplayer, però co-op, potendolo giocare con un altro giocatore, magari con una storia molto più ampia, queste secondarie, così che non ci sia la paura e il problema di rubarsi un po' le scoperte a vicenda, perché Subnautica punta tutto su quello. Rubarti la scoperta su Subnautica è come sull'ultimo Resident Evil, ammazzarti tutti i mostri e te cammini dietro di me e guardi gli ambienti in fanula e te l'ammazzo tutti io. Sicuramente vai a perdere gran parte del gioco e quindi il fattore scoperta è giusto che al momento sia soltanto in versione single player. Ringrazio ancora una volta Ryu per avermi offerto questa chiave, grazie Ryu davvero di cuore, regalo bellissimo e non vedevo l'ora di provarlo. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, primo link è in descrizione per acquistarlo. Vi lascio un pochino con l'ultimo video, vi faccio sentire un po' le musichette che ho messo di film storici bellissimi, di una trilogia che io adoro, con le colonne sonore più belle e vi faccio vedere un pochino la base che sto costruendo. Ciao ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!